A Firenze siamo stati la prima e penso per ora anche l'unica azienda a essere completamente privatizzata da Renzi. Non soltanto, considerate Renzi nella sua manovra ha privatizzato praticamente tutto il trasporto fiorentino. Il comune di Firenze nel trasporto in città non ha più niente a che fare, perché non soltanto ha venduto l'azienda di trasporto pubblico, ATAF, e quindi il trasporto su gomma, ma ha dato via anche tutte quelle che erano le quote sulla tramvia e quindi sul ferro. Quindi in città il comune non ha più niente a che spartire con il trasporto, quindi si è probabilmente lavato le mani. Cosa è successo? La cosa è peggiorata notevolmente. Quello che pensavano fossero i nuovi privati, il bello del privato, alla fine dopo ormai 4-5 anni si sta dimostrando il più grosso blef mai esistito. In quanto come lavoratori, innanzitutto c'è stato un aumento dell'orario di lavoro, l'eppeggioramento delle condizioni di lavoro e la diminuzione dell'organico. Siamo passati da 1.300 dipendenti, eravamo sotto ai 1.000 dipendenti. Sulle quattro riguarda manutenzioni, officine, eccetera, è stato praticamente quasi dismesso il tutto, perché via via ci sono stati pensionamenti, non si è stato riassorbito, e quindi andiamo in tutto in manutenzione con ditte esterne. Questo è il grosso. E soprattutto non è più un'azienda che fa trasporto pubblico di utilità, ma un'azienda che fa trasporto per il bilancio. In quanto BUS Italia, che è la proprietaria, maggiore proprietaria di ATAF, fa solo e scrittimamente servizio per fare business, non più per un servizio sociale. E il Comune di Firenze e tutti gli enti stanno continuando a pagare molto di più di quello che forse avrebbero dovuto pagare quando erano in ausa, quando erano loro e lo facevano. Per fare degli esempi, se c'è da fare delle corse in più, per andare a servire dei poli scientifici universitari, oppure delle linee in più per andare a portare dei laboratori o per l'italia pubblica, considerate che queste vengono fatte ma vengono pagate a estra. Quindi il Comune stabilisce un tot di chilometri, da quel tot di chilometri soltanto un metro in più va pagato. Quindi è andato a finire quella che era l'utilità. E infatti le aziende stanno facendo anche profitto, ma sulle spalle dei lavoratori e sulle spalle dei cittadini, anche perché non c'è più un controllo e quindi le corse saltano completamente, c'è meno di riduzione degli orari di percorrenza delle corse e quindi praticamente senza più un controllo diretto, bene o male, queste aziende fanno come gli pare, il bello e il cattivo tempo e prendono i soldi dei cittadini.